Napoleone III, la magnitud di questo edificio si impone ante la capilla, gioia dell'architettura gotica del siglo XIII. Questo edificio di piedra e di vidrio rappresenta un equilibrio perfetto con magnifico spirituale. A bordo, il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Saint-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociade. A bordo, il palazzo di Napoli III, il palazzo di Napoli. Il palazzo di Napoli III, l'arri con